Ciao a tutti ragazzi, io sono Andre dello staff di Ultimate Team FIFA Italia Oggi sono qui per portarvi la triple review dell'episodio numero 4 Per questo episodio numero 4, come vedete dallo screenshot, abbiamo un 4-2-2-2 E andremo a recensire il C-O-C destro che è Alilovic C-O-C sinistro, Sadio Mané, attaccante sinistro, dovrebbe essere un certo Kuma Babakar Un giocatore che a me sinceramente è piaciuto tantissimo, però poi ne parleremo dopo Il primo giocatore che state già vedendo nelle clip che andremo a recensire, a fare questa mini recensione E' Alilovic, Alilovic è un giocatore del Barcellona, quindi già questo dice tutto E come primo pro esaltante è il dribbling Il dribbling perché questo giocatore non perde, ha sempre il fatto, quel fatto che non perde mai palla dal piede Cioè è sempre lì, è sempre lì incollata L'unico modo che ha per staccarsi dal pallone è quando devi farti il dribbling Ma poi rimane sempre lì E la cosa bella è che scarta praticamente sempre Quindi questo è qualcosa di incredibile Ha anche 4 stelle skill, quindi anche per gli skiller oppure a chi piace fare derivate i skill Questo giocatore dovrebbe andare benissimo Al dribbling si va ad aggiungere anche l'agilità Che va a compensare praticamente questo dribbling Va ad aggiungergli qualcosa in più Perché ci sono molti giocatori che hanno parecchio dribbling ma hanno poca agilità E dopo un po' risulta masticante comunque scartare gli avversari Mentre con Alilovic il problema veramente non si pone Penso che sia uno dei migliori dribblatori in questo fase 16 che io ho provato a quel prezzo Perché non costa nulla, costa 1500 crediti ed è qualcosa di incredibile Unico contro che ho riscontrato serio è il posizionamento Posizionamento perché alcune volte durante la partita state facendo un'azione Lo andate a cercare e Alilovic non è lì Probabilmente questo alcune volte vi farà rosicare Però posso assicurarvi che comunque Alilovic compenserà questo contro con tantissimi gol straordinari Il secondo giocatore come state vedendo dalle clip è Babacar Babacar è indescrivibile perché la cosa che mi dà fastidio è una Babacar è fortissimo Io lo reputo uno dei migliori attaccanti della Serie A su questo F16 Perché ha delle statistiche incredibili Però viene usato pochissimo Ne ho usato pochissimo perché è un oro non raro C'è molta gente che ragiona è un oro non raro Non lo prendo nella mia squadra Per quanto riguarda Babacar non ho potuto utilizzare soltanto Diciamo non potevo non utilizzare più di due pro Quindi ho deciso di raggruppare in una parola tanti pro Uomo d'area di rigore Con uomo d'area di rigore intendo la finalizzazione Intendo il tiro a giro, intendo il colpo di testa Intendo il fiuto del gol Veramente Babacar è uno di quei giocatori che è impressionante Avanti la porta non sbaglia mai Ti detta sempre lui il passaggio Sa sempre cosa fare Durante quell'azione ti può fare anche quel dribbling col tocco di sola Che avete visto ora per esempio per spiazzare l'avversario L'unico contro che ho trovato è la potenza tiro Questo contro l'ho trovato più che altro quando provavo a fare i long shot Perché ora vedete una clip eccola qui Che dentro l'area ha una potenza tiro incredibile Mentre quando sono andato a fare i long shot Diciamo che mi sembravano apparentemente troppo deboli i tiri Quindi i long shot li andavo a fare con il tiro a giro Ed sono venuti un paio veramente carini Peccato che non ho segnato Se no lo avreste visto Il terzo giocatore è Sadio Mané Mané non l'avevo mai provato Che voi ci crediate o meno Era la mia prima volta E state ancora vendendo le clip di Babacar Mané non l'avevo mai provato Quindi però non vi andrò a dire che il pro è la velocità o l'accelerazione Perché ho l'agilità Perché sono cose che sanno tutti Il mio video vi andrò a dire i due pro che mi hanno colpito di più Il primo pro che mi ha colpito di più è il dribbling Non mi aspettavo che Mané fosse veramente così bravo a dribblare Nonostante avete queste 5-4 stelle schifte Scusatemi È uno di quei giocatori ottimi Perché non è che non perde mai palla come a Lilovic Ma vi permette tramite la sua velocità La sua agilità e il suo dribbling Di diciamo non avere per la maggior parte di volte Su quella fascia oppure io Perché io l'ho messo sulla fascia insomma O come attaccante O come giocatore offensivo Di perdere palla facilmente Altro pro che la finalizzazione Andate a compensare tutti i vostri dribbling Tutto quello che fate Con un ottimo, ottimo giocatore Che avrà un'ottima, ottima finalizzazione E quindi questa è una cosa incredibile L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo È il fisico Fisico perché cade veramente, veramente troppo a terra Beh ragazzi Questo episodio è da Triple Review L'episodio numero 4 è finito Io spero che il video vi sia piaciuto Commentate sotto con quali giocatori potremo recensire Io vi saluto Vi ringrazio Bella